Ciao a tutti ragazzi, sono Yomil Shan e benvenuti in questo nuovo video. Dopo gli annunci della Star Comics ho deciso di fare, di dedicare un video anche agli annunci per quanto riguarda la Planet, anche perché ha annunciato in questa cazzolettrice diversi titoli. Alcuni di essi sono molto interessanti, però devo dire che questa volta me ne interessa particolarmente soltanto uno, che dopo infatti andremo a vedere insieme, ve lo dirò durante il corso del video. Come schermata, come potrete vedere, è identica a quella della Star Comics, quindi direi di andarli a vedere insieme. Allora, come nel caso degli annunci della Star Comics, come schermato ho pensato di mettere in alto a sinistra, quando dovrebbe uscire, il titolo, la categoria, il genere e questa volta anche il prezzo. Infatti per alcuni titoli che ha annunciato la Planet sono riusciti a trovare anche il prezzo. E infine, come sempre, la trama. Questo qui dovrebbe uscire a ottobre, si chiama Chainsaw Man, è un'usione di generazione horror sovrannaturale. Al prezzo 4,90 euro, dovrebbe essere bimestrale. Ci parla di Denji, che è un ragazzo spiantato, coperto di debiti, che tira a campare uccidendo demoni, servendosi del fido Pocita, un demoniaco cane motosega, suo unico amico. Il destino è sempre stato duro con Denji, mora sta per portarli via tutto. Tutto tranne l'età di Pocita, che offrirà al suo padroncino l'opportunità di vivere una nuova, tagliente vita. Altro titolo in uscita a ottobre è Asadora. È un seller questa volta di genere drammatico storico, e lo dovreste trovare al prezzo di 7 euro. L'opera è incentrata sul racconto della vita di una ragazza dal dopoguerra fino ad oggi, stritta tra i catastrofici eventi che devastarono Nagoya alla fine degli anni 50, e le privazioni della povertà. Passando invece a novembre, dovrebbe uscire Magica Girl, All in Moon. Questa volta è uno show in rigenerazione e commedia, ecchi, fantascienza. Al prezzo di 7,50 euro, o 7 euro, non sono riuscita a trovare il prezzo preciso su internet. Siamo durante la gita scolastica delle medie. Le amiche d'infanzia Kaguya e i Mawari vengono rapite dalla società segreta Millennium. Questa organizzazione del male è nota per la distruzione che provoca, ma... È possibile che non siano davvero cattivi? Kaguya scopre quel che si scela dietro le orazioni, e la sua vita cambia completamente, ora che la verità del mondo nel quale vive è svelata. Adesso che può trasformarsi in una ragazza magica, quale sarà il suo destino? Sempre riguardante novembre avremo anche Il ritorno di Dan e Kaoru. È un stand-up per un pubblico adulto di genere ecci sentimentale Sleason Life, e lo dovreste trovare al prezzo 5 euro e 50. Questa serie è ambientata alcuni mesi dopo rispetto alla serie principale. È uno spin-off che racconta le vicende di Nana e Kaoru, però durante le vacanze estive, dell'ultimo anno di scuola superiore. Arriviamo poi a novità che penso che prenderò molto volentieri, e Spy It's Family, o Spy per Family, è uno show in generazione e commedia al prezzo di 4,90 euro. Twilight è una delle migliori ispire al mondo, ha trascorso la vita ad affrontare missioni sotto copertura, per rendere il mondo un posto migliore. Un giorno però riceve un compito particolarmente difficile, dovrà formare una famiglia temporanea e iniziare una nuova vita. A dicembre avremo anche il ritorno di Akira. È un stand-up per un pubblico adulto di generazione drammatico fantascienza psicologico, e lo troverete al prezzo di 22 euro. In pratica sarà una nuova edizione, con senso di lettura giapponese, però con traduzione rifatta. Penultimo annuncio di cui parlo si chiama Death Note Light Up The New World. Devo dire che è una copertina bellissima questo romanzo. È un romanzo di genere crimine, drammatico, psicologico, soprannaturale e thriller. E lo troverete al prezzo di 10 euro e 90. In poche parole è il romanzo tratto dal film. L'ultimo di cui parlo non so ancora quando dovrebbe uscire, comunque si chiama Lone Wolf and Cub. È un stand per un pubblico adulto, di genere combattimento drammatico storico. In pratica dovrebbe uscire in versione singola i volumi ma anche in cofanetto se foste interessati. Al prezzo di 22 euro ciascuno ogni volume e il cofanetto a 66 euro. In pratica sarà una nuova edizione in grande formato, composta da 4 cofanetti. Ogni cofanetto conterrà ben 3 volumi. Bene ragazzi, con questo mi sei mai fatto vedere tutto. Come vi dicevo durante il corso del video, l'unico titolo che mi interessa particolarmente è Spyper Family, che devo dire mi ha incuriosito soprattutto per quanto riguarda la trama. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere con un commento qua sotto se prenderete alcuni dei titoli che ho citato, che sarebbe veramente molto curioso di saperlo. E con questo ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!